Primo caso umano di contagio del virus della West Nile, febbre del Nilo in provincia di Oristano. Un uomo di 72 anni di Siamanna, 800 abitanti, è stato ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano e poi trasferito nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sassari. Per l'uomo con febbre alta, da subito la diagnosi è stata quella della febbre del Nilo, conferma poi arrivata dagli esami effettuati nel laboratorio dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Subito dopo il paziente è stato trasferito nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sassari. Nel mese di luglio erano risultati positivi alla febbre del Nilo un gruppo di zanzare catturate da una trappola a torre grande. Lo scorso anno 8 casi di contagio umano di West Nile nell'Oristanese, 4 dei quali sono persone poi decedute. Il virus West Nile è trasmessibile dagli uccelli infetti all'uomo o ad altri animali attraverso la puntura di zanzara. Nell'80% dei casi dà luogo a forme asintomatiche, nel 20% causa sintomi simili a quelli influenzali, febbre, mal di testa, nausea e vomito, e in una percentuale inferiore all'1% provoca encefaliti o meningoencefaliti. La situazione è sotto controllo, ha detto Maria Valentina Marras, direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL 5 di Oristano. La dottoressa Marras ha ricordato ai cittadini le precauzioni da attuare per evitare il contagio del virus. In primo luogo occorre evitare i ristagni d'acqua, dove proliferano le larve di zanzara. Per questo è necessario svuotare di frequente sottovasi di fiori, secchi, copertoni, barili, cambiare spesso l'acqua delle ciotole per animali, tenere le piscine per bambini vuote o coprirle quando non sono usate.